Attenzione, il seguente video contiene poni ed argomenti sessuali abbastanza forti. Se pensate che uno dei seguenti argomenti potrebbe arrecarvi fastidio, voi siete partiti. Musica Musica Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video. Questa volta è di un genere diverso dal solito. Se siete broni probabilmente conoscete questo gioco. Che a breve abbiamo... da poco abbiamo ricevuto la notizia che stanno ancora andando avanti. Probabilmente rilasceranno la versione completa, almeno con le prime Mane 6. Mi sto già eccitando. Questa invece è soltanto una vecchia demo, una vecchia versione. Mancano infatti due personaggi. Tutto ciò è terribile. Lo sai. O comunque qua se vi interessa c'è anche il Cisco che sta facendo di tutto per passare in osservato. Ciao. E quindi questo sarà un breve torneo alla cazzo di My Interpony. Fisting is magic. Fisting is magic. Fisting is magic. Non so se voi conoscete il fisting o è... Io sì. Quindi andiamo avanti. Io lo so. Io amo una bossa. Allora io non so... Noi non stanno neanche a giocare. Io non so perfettamente i tasti. Non so neanche i tasti. Cos'è che ho i... No, cos'è che mi hai messo come tasti? È ZXC, le ASD e le frecce direzionali. Io utilizzo invece un controller da Xbox. Perché ZXC c'è qualcosa di più comodo non c'è? Non lo so, io perché sono transgro ho direttamente preso un controller con... Sì, ci sto a controllare quindi è avvantaggiato. Allora io sceglerò Tvilix Sparculo. Tvilix no, tu ti tieni qui. Ecco però. Oddio! Ah, il giallo! Tvilix to Sparculo. Ah, cosa fai? Brutto! Attenso, Gisco! Quanto è cattivo il mod. Ah, io! Milla, zio, pollo, pizza, violenza, cioccolato, salate, salate. Non ci sta capendo. No, non mi salta! Adesso vince Gisco! Panico! Paura! Ma panico, paura! Ma come cavolo si... Ma ruotati! Rototrago! Perfetto, se fai un cazzo vince! Aia! Aia! No, non devo più farlo. No! No, dai! Ma io ti pittici slappo con un libro! Ma io ti slappo! E basta! Non mi salta più! Non mi salta più! Allora, super raggio sparaflusciante! Eita! Mi sono teleportato! Gisco, ti si teleporta addosso! 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 Ma come ti fai a saltare te? Non ho la più minima idea! Wow! Aia! Aia! Gisco, no, non puoi farmi questo! Che attacco è questa qua? Ho fatto capire del cazzo! Ah, fiore! Ah! Tap, 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 tap! Dai, Gisco! Dai, Gisco! Uaah! Ma hai son già, ho di vita! Chi sei giallino! No, me l'hai mangiato! Non ho sì! Che cacchio! Uaah! Non ho mai fatto, Gisco! Ahahah! Finish him! Fatality! Ahahah! Ma come sei fai? Quella è la minima idea! Chi è che tocca? Dai, vai, Gisco, visto che hai vinto! E con Zeta! Ho paura! Molta! Ebbiamo stavolta Gisco con Twilligd, Sparculo! Twilligd, Sparculo! Vai, cazzo! Oddio! Oh mio Dio! Costume da male! Ho capito come si salta! Ho capito come si salta! Signori miei, sono già dopo un punto! Sono già dopo un punto, cazzo! Sì! Quanto sono dopo un punto io! Tantissimo! Sì, vabbè, chiamato! Come cazzo l'ho fatto? Come hai fatto, Gisco? Ti odio! Eh, come ti vado a capparare! Io non ho visto a cosa corrispondono gli altri tasti, vi dirò! Non so a cosa corrispondono! Che cazzo ho fatto? Aiuto! Linciampo! Signori, Linciampo! Stie che vedete! No! Lupe! Tu non mi scappi, brutta merda! Ah, sì? Non puoi, lo sfondo è limitato! Ancora, l'inciampo, mio Dio, l'inciampo è di una potenza inaudita! Aspetta un attimino, dobbiamo vedere gli altri tasti! Ho capito! Sono già dopo un punto! Oh, scusa! Chi è che pausa senza il mio permesso? Io! Bravo! Lupe! Vagisco! Cazzo! Aiuto! Ma non si capisce niente! Come si fa a parare! Vagisco! Muori un po' per me! No! Sì! Tu moriii! Ma come si potrebbe fare? Testi Apple Beach! Non volevo... È da stamattina che mi sono preparato la frase se avessi vinto! È da stamattina! È il tuo turno! Allora, come sono i tasti? Sono stato bravo qua, legisco! Eh, ma non sapevo parare io! Prima, anch'io, e non ho parato un cazzo, io solo che non ho mai preso! O seleziona i tuoi colori! Chi è che combattere adesso? Ah, sempre io! Sempre io! Perché? Devo ancora smerdare il male? La tasti come ti sembra? Uh, devo smerdare anche lui, che bello! Adesso Matteo mi uccide, come minimo, come minimo, muoio! E come Massimo... Come mio, mi maledice! Come mi faccio... Come... Aspetta, aspetta... Io non mi ricordo più... Come io non mi ricordo più... Io non mi ricordo più... Bitch, mother fuck shit! Oh, io n***a, non mi fai queste cose, capito? Ma se non mi fai stessa assurda, non mi fai anche a farmi male! Mangia... Folgore fatale, non chiamare pagina! Folgore del cazzo! Tu e tu folgori del cazzo, non mi parete una minchina! Non siete un cazzo dei folgori! Contro di me, cornutaccio di me! Io male! Folgore fatale! Mi so! Io amo davanti! Perdona! Oh, no! Oddio! Ma no! Io biaccia! Io biaccia! Quanto sono pro! Prima volta che ci gioco! Prima volta! E se la l'OBS! Signori, mi dovete qualche complimento per il mio primo... Ma io credo che avevo a scrivere una birra, ma non davanti all'istruzione che mi hai dato! Era una battuta! Io fra poco avrei bisogno che se vi bemmo un po' di acqua, quella che purifica, diurifica, purifica, slarga le vene e fa pisciare bene! Ebbene! Hai imparato! Oh, andate voi due adesso! Eh sì, che devo andare in acqua! Bene! Porta coso volante, macchina di Leonardo, spostati! Come macchina di Leonardo? Adesso era macchina di Leonardo, sta zitto! Come ti permetti? Adesso provo a cambiare personaggio! C'è un cazzo! Boh dai, unicorno contro unicorno, mi pare giusto! No, io volevo cambiare, provo una pincia! Cisco va di Bottana! Quindi, Bottana! Cisco va di Bottana! Allora, aspetta che non... Bici slappalo, matte! Oh, pancia, pollo, pizza! Oh, yeah! Io ho una grande mano di gomma! E mi posso cicciare! Non ha ne ossa, bici, fai! No, penso che sia una specie di... Ah, il mio bici slappa! Io ne vado, paura, di cisco, no, vabbè! Se ne va in maniera solidissima! Come si fa? No, ho c'ho dato un regalino! Tentami di volere bene il mio regalino! Capito? Oh, no, mi provo! Scusi! Cos'è? Eh, come è? Quando? Gemma vive... Cisco, ti vedo nel casino! Ti leccherò a morte! Oh, mio Dio! Ah, no, è il matte che li casigna! È il matte che pinta, già! Ma che ca... Quante crappate nello stomaco, signore! Eh, ma come si fa a parare? Ma smettaci di stordirmi! Devo fare una cosa epica adesso! Adesso muore! No, perdi troppa vita, te, cisco! Cazzo, da mezz'ora che ti pesta, stai perdendo un'idea! Ma anche te non perdevi vita, comunque sì! È un tank, Renti! Che cosa vuol dire? Realizziamoci che sono i tank! Alto che Rainbow Dash! No, Alto che Ricoplayer, direi qua! Divo giù con gare, lo Darius! Non gli fanno un cazzo! Oddio, cosa stai facendo? Cercate di recuperare vita! Ma che adesso io! È pancato il gioco! Ma fai per recuperare vita, cisco! Ma ci credo che sta vincendo, cisco! È pancato quella vita! Cisco sta pagando il gioco, mio Dio! Speriamo che dobbiamo scarifarlo dopo perché se non sono forzuta! Fatti sotto! Il matto è perso e ti lecce a mordi! Slurpona! Ma andate non mi lecca al gioco di basta! Direi che ti lecca qualcosa! Aghia! Il tasso? Il tasso? Agh! Agh! Silenzio! Ma che cos... Chi è che parla, scusa? Ma chi è che il monaco sbatte la porta e chiude un rando? Vieni qui! Aghia! Vieni qui! Bang! Eh, ma è vero! Ma sei stato bravo perché ti recuperavamo la vita! Eh, però, guarda quant'er'ero riuscito! Dai, adesso voglio una bella, Massi, col coso, cisco! Ma no, come si fa con il joystick? Con il joystick! Com'è che si fa? Ci costa questo! No, dove? Vabbè, l'analogico per muoversi E allora, X per gli attacchi speciali, B per gli attacchi potenti, A per gli attacchi... Mi devo ancora provare lei o lei? No, è un casino! Mi vado di pennacchia! Mi vado di pennacchia! Bueno! No! Mio dio, come si fa a saltare! Cosa cazzo ho fatto? Perchè? Perchè sono così potente? Ma quella tastiera è più facile! Ah si? Tu dici che è più facile? Io ti dimostro che sono solo io che sono capace di... Ma che cosa ho fatto? Ma che cosa ho fatto? Io m'ho messo, signore! Ma questo wrestling non è un gioco di combattimento! Ma cazzo! Bastaci! Basta inciampo, porca puttana! Ah, ahia! Brunto il disco! Il disco! Sei simpatico! Beccati il dittato in parte! Dito di morte! Dito di morte! Dito di morte! Dito di morte! Beccati il dito di morte! Diattolo! Fisting! È impossibile! Io vado ripisting! Questi due fiesti! Sì vanno a fare cazzo! Io vinco sempre! È inutile opporsi al fatto! Especialmente a me! E al fisting! Sì! Aio! Gnagna! Ti stai attacchi nel cazzo! Gnagna! Zii! Ziluana! Go to me baby! Aio! Non mi picchi così forte lei! Gnagna! No! Mi avvicino! Gnagna! 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 La tua anima è maledetta per sempre! Gnagna! Gnagna! Quanto fisting! Me l'ha fatto lui il fisting! E senza vaselina! E senza vaselina! Gnagna! Mi sono seduto male sul selino del motorino! Gnagna! Davy Jones avrà la tua anima Gnagna! Davy Jones! Davy Jones! Davy Jones avrà la tua anima! Allora sì che ci sarà il fisting! No vabbè comunque complimenti! Vabbè comunque complimenti! Vabbè vabbè ma dentro aijezzi! Non ho quanto gioco posti! Ma ma ti per dio! Ed è costato una fortuna! Voglio provare lamena Gnagna! Ecco è un ottimo cosiddio ma un pezzettino di vinto è così! Vabbè! Ero tanto così ero! Oh voglio provare lamena Gnagna! Abbiamo capito che.. Non ho capito che con l' Apple jake si vince sempre adesso perdo! Adesso perdo quindi! Facciamo cosa.. Aspetta aspetta, non ho mai usato! Twinit! Twinit! Vediamo un po' come faccio il livello Ok ROLO THE MOVIE TU NON MI BATERAI CAPITTO BOTTA LA BOTTA LA BOTTA Capito Tu che non sei neanche capace di fingere lo stile count in troia Se non sai neanche utilizzare una taschiera per giocare nella mezza squallor Universal squallor Universal YOM MADASHIT Oh no MUFARZA Che tempi che è un personaggio FI Oh cosa ho fatto? È OP certo che è OP È troppo OP di montagna Tu non ti permetti 150 di armatura Ma che stai facendo? Tu non ti permetti il MADASHIT Mi stai facendo una bottana Si sto facendo una bottana E' una cosa per privata Io non capisco come stai facendo a giocare a sto gioco Non conosco neanche lo combo E ma bisogna tenere tasche caso Come si fa questo? Come si fa questo? Oh no Come ho fatto? Gli ho fatto una presa signori miei Hai fatto l'interlocchio tipo No biatch Perché hai di nuovo tutta la vita? Perché ti ricarichi purta stronza? Ma quante puttana eri? Quante puttana? Non ho detto che la puttana C'era ragione Cretina 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 Cretino albicocco Cretino albicocco Cretino albicocco time Albicocco Non darla cazzo Avrà l'apertura Si Avrà l'apertura della voce del fuoco Vabbè dai direi che possiamo Perché si ridà vita quella stronza? Madonna Ci credo che non l'hanno fatto uscire completo a sto gioco È così Hai fatto un personaggio che ti colpisce tre volte e si fa tutta la vita Che brutta te l'hai dunque Ok adesso mi sto più sul cazzo di prima e ve l'ho detto Cioè niente Comunque finiamo qua da parte allora Si dai si Mi sa che la voce mi è andata via Però è veramente che sono crevata all'iniziatra per quella vittoria del cavolo Ma quanto fisti lui Comunque questo gioco Quando uscirà completo lo faremo il gameplay della story mode E poi Mancano ancora un botto di personaggi Ci saranno uno meglio dell'altro Io quando sarà completo vado tutto di Big Mac e di pompato Dipende dai casi Dipende dai casi No ma non mi chiedo veramente chi sarà Spero metteranno spacchio Beh ovviamente Spacchio dentro un meca tipo No sono tipo spacchio ragazzo Vero Spacchio adolescente enorme No quella lì non so gli ulti tipo perché No ulti diventa adulto Tipo Giga Bowser fa Ulti diventa muscoloso con le gambine Nella spada E' bella la ulti perfetta Per spacchio Comunque Io diventa cavalieri in quell'episodio di Big Mac Sì infatti Comunque dicevamo che Quando sarà uscito completo faremo un'altra parte Faremo molto più fisting con tanti personaggi Molto più fisting di tutto proprio In tutte le maniere possibili Con guanto di gomma e senza Ne mancano ancora due però shit No ne mancano più di due Quello sotto quello selezionato era quello che volevo tanto fare Però Eh già Beh però di Comunque adesso otterremo d'occhio la data d'uscita E non appena ce l'avremo fra le mani Preparatevi qualche particina Ho qualche fisting Alla prossima Prossima Fistingo Io queste cose non le sopravvivo Ciao così tipo chiamano tutte Dell Tipo Francesco schiacciata e l'ha vinto Ti schiacciata così Tornato Tazzo tipo Colpo solo Il tuo personaggio che va a pezzi Letteralmente Sono questi allora Lupe A bere